Benvenuti al Media Plaza, siamo qui con Virginia Tiraboschi, amministratore delegato di San Maurizio Spa. Le chiediamo di presentarci la sua realtà in qualche battuta. Noi rappresentiamo a 360 gradi il benessere fisico e psichico attraverso questo brand San Maurizio 1619 che portiamo nel mondo. Abbiamo sperimentato da oltre dieci anni questo concept all'interno del relesso Maurizio che è una struttura di eccellenza nel settore alberghiero, nelle langhe, recentemente fattimo in UNESCO. Destinazione indiscussa per l'elevato livello di accoglienza da oltre dieci anni per un pubblico internazionale. Che cosa diamo ai nostri clienti e che cosa vogliamo portare nel mondo? Il saper fare bene italiano nei settori appunto del food and wine, nel settore del wellness, nel settore della ristorazione e nel settore dell'accoglienza. E con questo unico brand che ha oltre 500 di anni in storia alle spalle, 1619 la data di fondazione di questo antico monastero, pensiamo insomma di rappresentare al meglio le eccellenze in questi settori di cui vi ho parlato. Perché avete aderito al progetto Exclusive Brand Torino? Abbiamo aderito a questo progetto perché riteniamo che la rete d'impresa sia uno strumento non solo gradito al legislatore per quanto riguarda tutte le operazioni di marketing, comunicazione e di internazionalizzazione, ma proprio sia un'esperienza importantissima per shareare, per condividere le realtà di diversi imprenditori che amano il loro territorio e che vogliono fare network, che vogliono mettere a fattore comune il meglio appunto delle proprie aziende. Pensiamo che diventando amici innanzitutto, perché poi alla fine siamo come dire anche amici, sì è vero siamo concorrenti ma insomma riteniamo che possiamo aiutarci reciprocamente, si possano portare nel resto del mondo le migliori esperienze e le eccellenze, nel caso di specie, dei brand esclusivi di Torino e del Piemonte, che rappresenta una parte importante dell'industria italiana. Ora una domanda in inglese. Qual è il significato della tua partecipazione nel World Chamber's Congress? Sì, credo che per le famiglie di commercio possiamo fare la promozione del nostro network, EBT, Exclusive Brands Torino, e la nostra compagnia in la migliore. Quindi credo che le famiglie di commercio ci hanno dato molte opportunità in order di promozione delle nostre eccellenze nel resto del mondo, e credo che ciò che possiamo fare in Italia, che possiamo anche tradurere in fatto in Italia, che rappresenta il meglio di quello che i diversi entrepreneuri possono fare in diversi regioni, per sviluppare, non solo in Italia, ma soprattutto nel resto del mondo. Grazie. Grazie.